se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati regà e benvenuto per chi è nuovo nel canale allora ragazzi vi porto questo glitch che è una god mod e questo bug ci permetterà anche di fare la duplicazione vi lascerò il link in descrizione quindi ci richiediamo un veicolo personale e poi lo rimandiamo al deposito come ho appena fatto ci mettiamo il rientro ragazzi in agenzia dopodiché cambiamo la sessione in modo tale da spawnare all'interno dell'agenzia niente di più facile intanto ne approfitto per dirvi di lasciare un like per sostenere ragazzi il canale e iscrivervi perché vedo che un sacco di gente guarda i video senza essere iscritta comunque sia continuiamo con il glitch una volta spawnati dentro l'agenzia dobbiamo recarci di sotto dalla reception per buggarci vi ricordo se non l'avete ancora capito che questo metodo funziona anche per la duplicazione massiva vi lascio il link in descrizione quindi una volta che siamo qua davanti al bancone semplicemente apriamo il nostro telefono per avviare l'attività braccio di ferro nella voce altro a questo punto una volta avviato braccio di ferro e diciamo a un nostro amico di andare in una sessione a inviti quindi in mira differente dalla nostra dentro il lavoro da titano se invece state giocando da playstation semplicemente voi parteciperete su anawak quindi a questo punto apriamo il nostro menu interazione richiediamo il veicolo personale dopo di che chiudiamo velocemente il menu interazione schiacciamo freccia a destra e spammeiamo il tasto A per chi gioca ad xbox e il tasto X per chi gioca da play il risultato dovrà essere questo sarete in una schermata nera buggata a questo punto chi gioca da play ragazzi semplicemente partecipa su anawak e accetta tutti e tre i messaggi invece ragazzi noi che giochiamo da xbox ci facciamo mandare un invito dal nostro amico che è in una sessione a inviti mira differente dentro al lavoro da titano e una volta che accettiamo l'invito del nostro amico accetteremo il primo messaggio e quando siamo nel secondo messaggio dovremo dirgli di quittare ragazzi l'attività a questo punto quando lui quitterà l'attività noi potremmo accettare anche il secondo messaggio a questo punto una volta accettato anche il secondo messaggio ci darà il terzo messaggio una volta accettati tutti e tre i messaggi spawneremo ragazzi sempre dentro l'agenzia a questo punto per completare il glitch semplicemente dobbiamo schiacciare menu di pausa andare su online andare su attività via attività create da rockstar deathmatch ragazzi e una volta che siamo su deathmatch andare a cercare scontro kart possiamo avviare qualsiasi della categoria l'importante è che avviate scontro kart una di queste qua può capitare che vi dia l'errore voi la riavviate e vedrete che funziona tutto a questo punto spawnerete in una schermata frizzata mezzi trasparenti ragazzi e non vi potrete muovere e allora dobbiamo fare la stessa cosa di prima per chi gioca ad APS parteciperà su Anawak e accetterà tutti e tre i messaggi se no invece chi gioca ad Xbox le rega gli dirà al nostro amico di andare nel lavoro ritano in mira differente e a quel punto mandarci l'invito e accetteremo noi quell'invito dopodiché accetteremo il primo messaggio al secondo messaggio gli diciamo di quittare l'attività una volta che siamo sicuri che il nostro amico ha quittato l'attività accettiamo anche il secondo e accettiamo ragazzi anche il terzo messaggio e a questo punto ci saremo sfrizzati e sbada bam regà saremo in god mode allora ragazzi questa god mode è un po' balorda perché non ci dà la possibilità di chiamare tutti i veicoli ma la cosa positiva è che siamo in god mode siamo off radar e ragazzi se volete rompere le palle a qualcuno va benissimo io spero che i miei video vi piacciono regà lasciate un like lasciate un commento supportate Xavix e alla prossima ciao